Il via libera definitivo alla nuova rete ospedaliera arrivato dal vertice al Ministero della Salute è un'ottima notizia per la Sicilia. Finalmente avremo servizi di qualità e all'altezza delle aspettative dei cittadini, una migliore organizzazione delle forze in campo e una distribuzione ragionata delle risorse, a dichiararlo il sottosegretario alla Salute Davide Faraone, che venerdì aprirà a Caltanissette i lavori della tappa nissena del Pensatoio Cambiamenti, gli stati generali della serenità siciliana, ai quali tra gli altri esperti prenderà parte l'assessore regionale Baldo Gucciardi. A esprimere la propria soddisfazione anche Pippo Di Giacomo, presidente della Commissione Sanità dell'ARS, con l'approvazione della nuova rete ospedaliera da parte del Ministero, scrive «Si chiude un percorso lungo e complesso che ci consegna finalmente gli strumenti per un profondo ammodernamento e miglioramento dell'offerta sanitaria. Siamo di fronte ad un grande risultato per i siciliani, ma non mancano le polemiche. Scettici, medici e il personale sanitario da Renterle Will FPL, che parla di una perdita solo in provincia di Messina di 33 posti letto. Caustica, la CISL, che parla di forte penalizzazione della zona tirrenonebroidea, dove si registrano la soppressione del reparto di urologie ed il declassamento dell'unità di nefrologia, da unità operativa complessa ad unità operativa semplice dell'ospedale Dazzo Barcellona. Oltre il dimezzamento dei posti letto di pneumologia, che compromette seriamente il servizio in favore della vasta utenza di oltre 300.000 abitanti di tutta l'area tirrenonebrodi, senza contare le irragionevoli soppressioni che riguardano l'ospedale di Papti e le forti penalizzazioni che vengono messe in campo per gli ospedali di Sant'Agata Militello e Mistretta. Grazie.